Quali prospettive si aprono per la vostra società dall'entrata in un gruppo internazionale? Da giugno del 2011, come sapete, Value Team è entrata a far parte del gruppo Entity Data, che è una corporation giapponese leader nel mondo delle IT services. E operativamente da inizio anno è partita un'integrazione vera e propria, che ha visto, oltre a cambiare la Legal Entity, quindi cambiare brand da Value Team a NTT Data Italia, quello di far parte chiaramente di una corporation, quindi di un'azienda internazionale e globale. Noi ovviamente nell'ambito di questa riorganizzazione siamo entrati a far parte dell'NTT Data EMEA, quindi della region EMEA, e sicuramente è quello che abbiamo iniziato a percepire come grandi opportunità, l'avvio di gruppi di lavoro su tematiche strategiche, come ad esempio quello dei payments a livello globale, dove questi gruppi di lavoro definiscono delle strategie in termini di soluzioni, in termini di attività da portare sul mercato a livello globale, ma con poi una localizzazione rispetto alla region piuttosto che al paese. Quindi la grande opportunità è quella di definire per delle tematiche, quale ad esempio quello dei pagamenti, che è una delle già competenze e asset di eccellenza che portavamo in dote da Value Team in NTT Data, quello di condividere questo tipo di esperienze all'interno di team internazionali, dove ognuno porta ovviamente le proprie esperienze, e a questo punto definire una strategia globale, ma che abbia appunto delle declinazioni più locali a livello di region, come dicevo e a livello di singola country. In tutto questo chiaramente potendo anche contare, quindi potendo comunque avere a supporto un piano anche di investimenti che ha un respiro ovviamente molto più ampio, quindi sicuramente questo a livello proprio come dire molto concreto sono veramente i segnali che avvertiamo, e quindi i grandi cambiamenti che avvertiamo rispetto diciamo alla Value Team, che ovviamente aveva una dimensione molto più diciamo domestica e meno internazionale della NTT Data.